Oggi Maria ribadisce il messaggio più bello che l'uomo possa ricevere. Nulla è impossibile a Dio. Sapendo questa grande verità, perché continuare a preoccuparci delle cose che passano? Tutto è nelle mani di Dio. Prendiamo oggi l'esempio della Madonna e affidiamo la nostra vita nelle mani di Dio. Allora ogni nostro atto diventerà un inno di lode al Signore per le grandi cose che compie ogni giorno nelle nostre vite. Meditiamo oggi sulla nostra relazione con Maria. Ci ricordiamo di rivolgerle lo sguardo del cuore durante la giornata. La onoriamo e chiediamo la sua intercessione?